Un cadavere ambulante, Bull. Senza la tuta... Guarda che strano. È come se crescesse nelle ferite. È come... è come se si fondesse con i tessuti. Devi concentrarti sugli strati più profondi della tuta. Vai fino al substrato. C'è qualcosa di strano laggiù. Sembra che siano dei dati aggiuntivi. Ok. Spazio del buffer aperto. Scansione profonda in arrivo. Alcatraz, ti chiami così? Alcatraz, il destino valente. Il destino valente. Ora... Ci sto provando. È una trasmissione, merda. Stai mettendo una cazzo di trasmissione. Oh, merda! Aprile questa porta. Bene. Per tutta la città stanno cercando il tuo bel culo, uomo di latta. Ma eccoti qua. Già bello è pronto e impacchettato. Già è impacchettato, ma non ancora morto questa età. Giusto? Sì, come no. Comandante Lockhart, metti subito giù quell'acqua. Tiratelo su, forza! Tara Strickland. Nathan Gould. È sempre un piacere. Tenetelo d'occhio. E se vi crea dei problemi andateci piano. Dobbiamo ancora interrogarlo. Ti conviene disattivarlo prima di estrarlo da quel coso? Sarà un piacere. Ricordati questo, Prophet. Se cammini piano, va tutto bene. Adesso dovrò infilarti questo affare nell'orecchio. Se crei problemi, allora ti stacco la testa. Ora in piedi. Non provarci con me, Prophet. Alzati e cammina. Che succede, Gould? Dovresti essere felice adesso che la tua grande cospirazione dei cattivi ti prende a calci infatti. Accidenti, Tara. Se tuo padre ti vedesse in questo momento, lavorare per questi stronzi. E allora? Sai che mio padre è morto e sepolto. Quindi chiudi questo. Non l'hai ancora capito, eh, Tara? Non hai capito che questo non è Prophet, vero? È soltanto un... Qualcosa è stato? Sposta sismica, Argrave, pensa che sia. Sto venendo! Fuori! Tutti fuori, via! Hai sentito? Fuori! Peccato, uomo di lanza. Conducetelo al prisma e portatelo lì dentro. Adesso è un problema di Argrave. Guardate il riso. Guardate il riso! Grazie a tutti.